ciao in cd con magia un saluto da macinator bene oggi faccio una video dedica a tutti i miei follower grazie a tutti voi per la grande fiducia che riponete in me e grazie per essere arrivati già a 29 mila speriamo di crescere sempre di più io l'unica cosa che posso fare per contraccambiare questo vostro modo affettuoso di seguirmi è dedicarvi un mega fungo un fungo edulisse boletus edulisse dalla taglia abbastanza importante ma soprattutto per la sua perfezione il nostro bambino guardate qui che meraviglia fantastico di pietra ragazzi di pietra guardate che colore guardate guardate qui che meraviglia io vi saluto vi abbraccio ancora fortissimo mi raccomando seguite il canale cresciamo tutti insieme e vi farò divertire sicuramente con momenti magici dei funghi ciao